Ciao a tutti, benvenuti al canale IFTR Responde. Ci avete chiesto in una delle precedenti puntate di spiegare l'effetto Casimir. Dunque, l'effetto Casimir è un effetto fisico reale, teorizzato nel 1948 e funziona così. Ci sono due lastre metalliche che sono poste nel vuoto e sono elettricamente scariche, senza nessuna carica elettrica. Non c'è nulla, c'è il vuoto completo, nessuna particella tra le due lastre e nonostante questo le due lastre si attraggono l'un l'altro. Si attraggono con una forza data da questa espressione dove A è l'area delle lastre, L è la distanza alla quale abbiamo posto le lastre, H è la costante di Planck e C la velocità della luce nel vuoto. Uno può chiedersi come si spiega l'effetto Casimir. L'effetto Casimir tra l'altro è stato visto sperimentalmente nel 1997 e quindi è un effetto assolutamente reale, esiste in natura e si può verificare con esperimenti. Qual è la spiegazione dell'effetto Casimir? Uno potrebbe chiedersi la forza che attrae le lastre è di natura elettromagnetica? La risposta è no. No perché le lastre sono elettricamente scariche, non c'è nessuna carica elettrica sulle due lastre. Può essere una trazione di tipo gravitazionale tra le due lastre? La risposta è nuovamente no, perché nonostante una trazione gravitazionale esista tra i due oggetti, essa è enormemente più piccola di questa forza che viene misurata sperimentalmente. Dunque la spiegazione dell'effetto Casimir è di altra natura. In particolare si può spiegare l'effetto Casimir attraverso la teoria quantistica dei campi o QFT. L'idea fondamentale della teoria quantistica dei campi è che per ogni particella elementare, come l'elettrone o il fotone, il muone, il bosone di Higgs, esiste un campo. Questo campo permia tutto quanto lo spazio e eccitazioni locali di questo campo sono quello che noi interpretiamo come particelle. Ora, le eccitazioni del campo, in questo caso ho disegnato il campo del fotone per esempio, possono essere di due tipi diversi. Ci sono eccitazioni che interpretiamo come particelle reali, particelle fisiche che misuriamo sperimentalmente e altre eccitazioni che diciamo essere dovute a particelle virtuali. Queste particelle virtuali, a livello puramente divulgativo, possono essere pensate come delle particelle che esistono soltanto per un intervallo di tempo infinitesimamente piccolo. In particolare possiamo pensare a una situazione in cui abbiamo uno stato di vuoto e dal vuoto si produce un fotone che esiste per un intervallo di tempo infinitamente piccolo fino a poi a scomparire un'altra volta nel vuoto. Queste particelle virtuali sono un tipo particolare di eccitazione del campo e possiamo calcolare l'energia che hanno queste particelle virtuali. La spiegazione dell'effetto Casimir è dovuta al fatto che il vuoto fra le due lastre è sì un vuoto senza nessuna particella reale, però i campi continuano ad esistere in questo vuoto ed esistono le particelle virtuali. Chiamiamo questo vuoto vuoto quantistico. È possibile dunque calcolare l'energia totale che hanno le particelle virtuali tra le due lastre e la forza che si misura sperimentalmente è data dalla derivata dell'energia con rispetto alla distanza fra le due lastre. Questa è a livello divulgativo l'aspirazione dell'effetto Casimir. Vorrei ora commentare brevemente su un altro fatto che potrebbe essere collegato all'effetto Casimir. Questo è il discorso della costante cosmologica. Dunque sappiamo noi oggigiorno che l'universo si espande in maniera accelerata. Questo è un fatto sperimentale, si può vedere sperimentalmente da osservazioni di astrofisica e cosmologia che l'universo si espande in maniera accelerata. Il motivo per cui l'universo si espande in maniera accelerata può essere capito usando l'equazione di Einstein della relatività generale, che è questa equazione che ho scritto qua. Da questa equazione si può descrivere, si può ricavare il modo con cui l'universo si espande nel corso della sua storia. In questa equazione vediamo al lato sinistro dei termini che descrivono come si comporta la forza di gravità e al lato destro vediamo dei termini che sono dovuti alle sorgenti della forza di gravità, la massa e l'energia di particelle, stelle, galassie, tutto quello che sta nell'universo. In particolare c'è un termine dovuto alle sorgenti, è un altro termine che si chiama costante cosmologica. Questa costante cosmologica è un contributo all'espansione dell'universo che esiste anche nel caso in cui l'universo sia completamente privo di materia di alcun tipo. Immaginiamo di fare un esperimento mentale, di prendere l'universo, togliere le galassie, le stelle, gli ammassi di galassie, rimaniamo senza nulla, dunque questo termine si cancella, rimaniamo però con i campi fondamentali. I campi fondamentali possono avere citazioni di particelle virtuali. Quindi uno può chiedersi se è possibile interpretare questo termine di costante cosmologica come l'energia totale delle particelle virtuali, in modo analogo a quanto abbiamo fatto con l'effetto Casimir. Si può misurare sperimentalmente il valore di questa costante cosmologica, vale 10 alla meno 3 elettronvolt alla quarta. Questo è un dato di fatto, un dato sperimentale. E uno potrebbe dunque ripetere un conto simile a quello dell'effetto Casimir, usando adesso tutte le particelle virtuali di tutti i campi del modello standard della fisica delle particelle, e calcolare quanto vale la costante cosmologica secondo la teoria. Il risultato che si trova è disastroso. Questa è spesso chiamata la predizione teorica più sbagliata della storia della scienza. Il valore che si trova teoricamente facendo questo conto è circa 10 alla 120 volte maggiore del valore che si misura sperimentalmente. Dunque occorre trovare un'altra spiegazione teorica al motivo per cui la costante cosmologica vale questo tanto sperimentalmente. Le spiegazioni potrebbero essere due a priori. Potremmo dire che semplicemente la costante cosmologica non si interpreta come l'energia delle particelle virtuali nel vuoto e occorre un'altra spiegazione che ancora non sappiamo. Oppure potremmo dire che non conosciamo tutte le particelle che esistono. Noi stiamo facendo questo conto usando tutte le particelle del modello standard, però potrebbero esserci altri campi, altre particelle virtuali che contribuiscono a questo conto. Questo si chiama il problema della costante cosmologica, uno dei massimi problemi aperti in cosmologia e fisica delle interazioni fondamentali ad oggi ed è un attivissimo ambito di ricerca qui agli effetti di Madrid.